Volevo leggere una cosa, Francesco, oggi, proprio a questo proposito, che ho trovato in rete. Adesso io non ne conosco l'autore, infatti se ci sta ascoltando si faccia avanti perché ha scritto una cosa interessante, però io l'ho trovata in rete, circola in rete, io quindi la prendo e la rileggo perché è interessante. E rappresenta, benissimo, ecco perché mi farebbe piacere conoscere l'autore di questo scritto, e rappresenta, anche con un velo di ironia, quello che sta accadendo oggi in Italia. E cioè questa grande confusione, ma che poi rappresenta un po' il nostro Stato. Poi nelle prossime settimane racconteremo anche un'altra vicenda di confusione amministrativa, che serve sempre per gestire poteri, per cercare di storcere danaro, per cercare addirittura di rompere le scatole ai mezzi di informazione liberi. Ne parleremo nelle prossime settimane. Però, adesso fammi leggere questa cosa, che invece riguarda la vicenda vaccini, la vicenda Covid, e che rappresenta un po' la confusione, la confusione nella quale stiamo vivendo. E quindi la domanda è, possiamo fidarci? Ecco. Scientificamente provato si intitola questo testo. Ecco, io indosso gli occhiali per leggere meglio. Il vaccino Pfizer, Francesco, si inocula con due dosi, questo è quello che ci hanno detto, si inocula con due dosi, a distanza tre settimane una dall'altra. Ma anche dopo dodici settimane va bene. Ma pure una dosa sola e basta e avanza. No, questo ci hanno detto. Magari diluita in due mezze dosi, perché no? Metà subito e un'altra metà con comodo. Quando arriveranno? Con una fiala sappiamo che escono cinque dosi, ma anche sei se le allunghiamo un po'. Quindi, perché non sei? La conservazione del vaccino, Francesco, vada bene, stai attento. Tassativamente deve essere tra meno 80 e meno 60 gradi. Se no, è acqua fresca. Manca meno 20, non cambia niente. Poi alla fine, che ci frega. Le due dosi devono essere ovviamente dello stesso vaccino, è chiaro. Ma pure una di una marca e una di un'altra va bene lo stesso. Ma basta che la somma fa due. Uno Pfizer e una Moderna si può fare. Ma va bene anche una AstraZeneca. Uno Soverana e una Sinovac. No, la somma fa due e non tre, perché gli ultimi due vaccini vengono da fuori della Nato e valgono la metà. Eh, bisogna farle queste cose. Ma anche farne uno dei tre solamente va bene lo stesso. Dai, alla fine va bene. Lo Sputnik non è buono. Ma hai visto San Marino? No, noi siamo più fessi di San Marino. È buono lo Sputnik. Facciamo come San Marino. Sì, vabbè. Però chissà che ci ha messo dentro Putin. Perché tu lo sai, io non lo so. Chissà che ci avrà messo dentro. Beh, io ho qualcosa a so. Però attento che Oxford-AstraZeneca è ottimo. Sicuramente è il più istruito. Infatti lo danno agli insegnanti. Viene da Oxford, scusa. Però l'hanno fatto in Gran Bretagna e ci stanno due gocce di sovranismo incorporate e va inoculata al massimo fino ai 55 anni di età. Ma anche 65 è la stessa cosa, va bene lo stesso. Poi, insomma, basta che facciamo contente le persone. Io peccato che ho gli anticorpi naturali, altrimenti mi facevo Johnson & Johnson. Non più lacrime con Johnson & Johnson, che protegge dai vaccinati. Si fa con una sola dose e ha un doppio beneficio. Esci vaccinato, eppure insaponato. Alla faccia della scienza. Io trovo che questo scritto sia simpatico, interessante, amaro, perché rappresenta una vera realtà. Sembrano stupidaggini, sembrano una cosa comica, quella che abbiamo detto, ma è quello che ci raccontano tutti i giorni. Capisci? Però è molto bello.